Sono più di 3.000 gli articoli sequestrati dalla Guardia di Finanza in negozi di nazionalità straniera. Sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per i reati di vendita di prodotti industriali, consegni magnetici e introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi. Gli oggetti erano accessori di informatica non conformi alle normative comunitarie, anche giocattoli sprovvisti di indicazioni che attestano ai sensi della normativa vigente, la sicurezza per i bambini, poi borse di noti marchi di moda e materiale sportivo contraffatto, tutto per un totale di 8.500 euro.